L'Ossangelo è stata per me una bella esperienza, sicuramente una conferma dopo Montechiari di avere comunque una buona qualità in pista, di poter arrivare a Londra e fare qualcosa anche sulla pista e sull'inseguimento. Io sono stato fortunato grazie al mio carattere, ma ci sono tante persone che se la società gli facesse capire che la loro vita non è finita, provare a andare al di là di quello che è due ruote, due bastoni per camminare. Una grande tavolata, una buffata di cose buone e alla fine risolvi la giornata. Se poi la giornata è iniziata con una maratona è anche vinta. Grazie a tutti.